E' un'idea che ci è venuta un po' casualmente, perché abbiamo capito che il territorio vuole essere ascoltato. Sembra che noi veniamo qui per raccontare delle cose, in realtà veniamo qua per ascoltarle. Oggi le abbiamo ascoltate tante, a volte anche con qualche tono vivace, però proprio il tono vivace ci aiuta a capire quali sono i problemi di fondo, quelli che stanno nella pancia di chi opera. Anche in realtà apparentemente felici come Taormina, dove i risultati del turismo sono decisamente migliori che nel resto della Sicilia si percepisce come ci sia molta frustrazione per cose che si potrebbero fare e non si fanno. Noi crediamo che attraverso questi interventi possiamo capire e farci qualche nuova portavoce degli altri, portavoce con gli enti territoriali, ma portare idee, metterle a comune tra tutti, fare delle cose. E sono personalmente molto soddisfatto delle cose che sono venute fuori oggi e crediamo che alla fine di questo giro, che concluderemo entro un mese e mezzo, due massimo, avremo un'idea più chiara e proporremo dei progetti da condividere per tirare un po' avanti il turismo congressuale e il turismo in genere della nostra terra. A fare sistema e come noi possiamo uscire fuori, con un po' di indicare la strada, sono quei nomi che ci hanno dato. Il mio guest è un finanziamento prodotto da visioni, grazie alla partnership con Sicilia Commission Bureau, è stata una bella occasione per essere presenti qui a Taormina, all'ambito, e avere anche l'occasione di presentarlo e raccontarlo a tanti professionisti dell'ospitalità nel territorio, con cui abbiamo avuto modo di interagire, capire l'importanza delle statistiche, dell'analisi. Quindi grazie a Sicilia Commission Bureau e a giornate come questa, che sicuramente consentono di promuovere sempre di più il turismo, la crescita del turismo e anche naturalmente il turismo con persone. Grazie naturalmente anche a Blottaormina per questa opportunità data. Grazie.